Il Master in Giornalismo della Lumsa, che ho frequentato nel Bienio 2016-2018, mi ha dato l'opportunità di conoscere le varie declinazioni del mestiere di giornalista, quindi di migliorare le tecniche di scrittura, ma anche il linguaggio radio-televisivo, attraverso la pratica e i laboratori. Tramite gli stage contestate prestigiose ho avuto anche la possibilità di imparare sul campo, di fare esperienza sul campo, applicando di volta in volta quello che apprendevo nel corso del Bienio. A questo bisogna aggiungere anche l'ottima preparazione in vista dell'esame di Stato e certamente devo al Master i primi contatti con il mondo del lavoro.